a una disciplina penale come quella della 231 e possono essere mandate esenti da responsabilità penale nel caso in cui, come richiede la 231 con una disciplina, parlo dell'articolo 6 del decreto legislativo 231 del 2001, ma la disciplina è molto simile a quella dell'articolo 1,12 della legge 190 del 2012, se l'ente prova e dunque non risponde del reato commesso da parte dei propri apicali oppure sottoposti, se prova che l'organo dirigente adottato e efficacemente attuato prima della commissione del fatto dei modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di reati, del tipo di quello che si è verificato. Se prova altresì che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato attribuito, è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, l'organismo di vigilanza, le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione oppure non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza di cui ho detto poc'anzi. E quindi questa sentenza ha sostanzialmente cambiato l'atteggiamento non solo delle società partecipate da capitale pubblico ma anche degli enti che, enti locali come appunto i comuni e le province, hanno delle partecipazioni all'interno di queste società. In quest'ottica diciamo che la strada era già stata aperta prima ancora della sentenza della Cassazione del 2010 dalla Giunta regionale del Veneto che con una delibera dell'11 dicembre del 2007 si era posto il problema della commissione dei reati da parte di soggetti operanti all'interno delle società partecipate da capitale della regione. E proprio prendendo spunto dal decreto legislativo 231 del 2001 la delibera si pone un problema ma nel momento in cui viene commesso un reato da parte di soggetti apicali o sottoposti all'interno delle partecipate a vantaggio o nell'interesse della società partecipata e beh in questo caso c'è il rischio che le sanzioni interdittive o pecuniarie del decreto legislativo 231 si applichino anche alla società partecipata e la risposta è stata positiva. Tre anni prima che lo dicesse la Cassazione dunque vedete che la regione Veneto si era posta questo problema. ha dunque effettuato una ricognizione da cui è emerso che buona parte delle società partecipazione regionale non avevano adottato alcun tipo di modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231 e che tuttavia una piccola parte stava valutando questa possibilità. Con la delibera dell'11 dicembre 2007 la giunta regionale ha allora deciso di prendere l'iniziativa invitando tutte le società partecipate dal capitale regionale ad adottare il modello di prevenzione dei reati ai sensi del DLGS 231 in modo da poterlo opporre a fronte di possibili contestazioni penali in caso di commissione di reati nell'interesse o avvantaggio della partecipata da parte di soggetti apicali o sottoposti operanti all'interno di esse. Tuttavia, come si dice, chiedere è lecito rispondere, parrafrasando, insomma agire in questo caso sarebbe atto di cortesia nel senso che è un invito alle partecipate la stessa delibera ha previsto molto opportunamente la convocazione dell'assemblea ordinaria delle società partecipate affinché tutti i soggetti facenti parte del capitale sociale esprimessero la propria opinione ognuno si prenda la propria parte di responsabilità chi non è d'accordo lo dica in sede di assemblea ordinaria e devo dire che insomma questa strada è stata poi seguita da parecchi altri enti locali faccio il caso del comune di Pescara che ha sostanzialmente rivolto identico invito alle proprie società partecipate e sostanzialmente pressoché tutte hanno adottato un modello di prevenzione dei reati essenziali DLGS 231 del 2001 e dunque una strada aperta da questa delibera ma confermata chiaramente dalla Corte di Cassazione ha consentito la diffusione del modello di prevenzione di questi illeciti in tutte le società partecipate dagli enti locali i quali hanno sentito l'esigenza di promuovere questa azione dunque modello di prevenzione fondamentale per evitare che la società partecipata risponda penalmente e dunque sia costretta a tirare fuori dei quattrini perché poi il problema che la delibera che vi ricordavo poc'anzi poneva era un problema che si basava su due considerazioni cioè la prima se la società partecipata deve pagare delle somme di denaro a titolo di pena pecuniaria e parliamo di somme che possono essere addirittura milionarie l'ente che partecipa a quella società è in certa misura intaccato dal fatto che quelle somme la società le deve pagare quante volte gli enti locali intervengono economicamente a sostegno delle società partecipate e i soldi dell'ente locale di chi sono? sono della collettività perché la collettività deve farsi carico di fatti illeciti compiuti da soggetti operanti all'interno di società partecipate dagli enti pubblici e dunque il modello 231 consente se efficace e monitorato nella sua concreta applicazione di far sì che il soggetto autore materiale dell'illecito non coinvolga contestualmente anche l'ente se si sono adottati tutti quegli strumenti di vigilanza e prevenzione che il modello prevede anzi addirittura l'illecito non si dovrebbe neanche verificare se il modello funziona ma è chiaro che non può avere uno spettro di copertura così ampio tant'è vero che la fraudolenta abbiamo visto prima la fraudolenta illusione dei modelli 231 ovviamente è contemplata allo stesso legislatore e dunque questo primo profilo cioè l'adozione di una delibera che in qualche modo imponesse alle partecipate di adottare questi modelli evita un impatto economico anche per la collettività molto mediato naturalmente perché la sanzione impatta sulla partecipata e di riflesso sull'ente locale ma in fondo l'ente locale siamo anche noi mentre l'altro profilo quello delle misure interdittive previste dal DLGS 231 che possono arrivare fino alla impossibilità per la società di continuare la propria attività sono state oggetto di una apposita disciplina nell'articolo 15 del DLGS 231 perché è stato chiarito che il giudice in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente sempre possibile per le persone giuridiche private dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente stesso da parte di un commissario per il periodo pari alla durata della pena interdittiva quando l'ente pubblico svolge un'attività di pubblico servizio o pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività le municipalizzate dell'acqua l'interdizione comporterebbe l'impossibilità per i cittadini di fruire del servizio idrico o ancora del servizio elettrico e dunque il commissario che si sostituisce per la prosecuzione dell'attività oppure nel caso in cui l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui opera rilevanti ripercussioni sull'occupazione dunque le misure interdittive tutto sommato sono disciplinate in maniera tale da consentire per quei servizi di pubblica necessità o per quelle particolari situazioni occupazionali da consentire la prosecuzione appunto della loro erogazione però è chiaro che il profilo economico rimane e dunque l'adozione di questi modelli è evidentemente utile ma come io ho detto la provincia di Lecco per esempio pur non potendo essere colpita da sanzioni pecuniarie in quanto ente pubblico territoriale non potendo essere colpito da sanzioni di carattere interdittivo che sono sanzioni ovviamente accessorie ha comunque ritenuto che la mappatura delle proprie aree più a rischio non solo corruzione fosse opportuna per il miglior funzionamento dell'ente perché in fin dei conti una pubblica amministrazione che funziona è una pubblica amministrazione che non dà neppure adito a possibili idee corruttive se io un provvedimento amministrativo lo devo ottenere quasi come fosse un decreto di grazia sovrana posso essere paradossalmente portato a pensare a strade alternative a scorciatoie al di là naturalmente dei casi nei quali i provvedimenti auspicati non si possono ottenere e se il modello organizzativo del decreto legislativo 231 si applica anche alle associazioni non riconosciute agli enti pubblici è evidente che esso rappresenta uno strumento di ampio respiro al quale si può fare riferimento c'è un rapporto il rapporto sul livello di corruzione all'interno dei paesi del mondo realizzato da Transparency che è molto interessante Transparency International si occupa sostanzialmente di monitorare sulla base di tutta una serie di indicatori il livello di corruzione all'interno dei singoli paesi diciamo che non siamo messi proprio benissimo Transparency ha monitorato 13 diverse istituzioni definite pilastri la stragrande maggioranza delle quali sono strutture pubbliche il potere legislativo esecutivo giudiziario la pubblica amministrazione ovviamente la corte dei conti fino ai partiti politici e alle società private e ai media ebbene è emerso che proprio la pubblica amministrazione e i partiti politici e anche in parte i media rappresentano l'anello debole nel nostro paese e il fatto che non ci non ci fosse fino alla legge 190 del 2012 una autorità anticorruzione rappresentava evidentemente un tema non di poco conto perché mancava il soggetto pronto a intervenire a fronte di fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione però ecco la cosa che mi ha colpito di questo rapporto è che mentre la corte dei conti il sistema giudiziario e i servizi elettorali hanno ricevuto altissimi punteggi dunque sostanzialmente si tratta di meccanismi di istituzioni che non sono particolarmente permeabili alla corruzione il voto in Italia si svolge regolarmente il sistema giudiziario è in grado di assicurare decisioni trasparenti la corte dei conti vigila con adeguatezza il tema delicato è stato rappresentato invece dalla pubblica amministrazione che pur essendo valutata positivamente per il gran numero di informazioni che fornisce è stata criticata per la qualità delle informazioni perché il tema qui si faceva riferimento anche prima nella relazione del consigliere Polidori è che io nel momento in cui mi interfaccio con la pubblica amministrazione ho bisogno di sapere cosa fare e come farlo per ottenere una determinata cosa e quindi non è importante che io abbia solo molte informazioni ma anche che quelle informazioni siano efficaci siano mirate e dunque uno strumento utile perché la pubblica amministrazione funzioni meglio è anche quello rappresentato dal fornire informazioni puntuali e precise relativamente alle attività che interessano il cittadino la pubblica amministrazione italiana sotto questo aspetto ha delle dotazioni economiche esigue ha un sistema di governance non appropriato che appunto il rapporto di transparency evidenziava dovesse essere migliorato proprio con una legge anticorruzione efficace e accanto a questo in senso ampio all'interno della pubblica amministrazione c'è il meccanismo dei partiti politici l'articolo 49 da dignità costituzionale l'articolo 49 della costituzione da dignità appunto ai partiti politici come organi essenziali per concorrere alla vita politica del paese i partiti politici nel rapporto di transparency ricevono un voto basso per la gestione delle risorse che hanno a disposizione è un tema su cui molto si discute oggi e ringrazio mio fratello Luigi per avermelo segnalato perché onestamente mi era sfuggito ma i modelli organizzativi e di compliance ai sensi del decreto legislativo 231 si applicano anche alle associazioni non riconosciute e associazioni non riconosciute per eccellenza il partito politico il controllo sui partiti politici all'interno dei partiti stessi ben potrebbe avvenire con la previsione di un modello organizzativo 231 del 2001 perché in realtà molto spesso si scambia la causa con l'effetto la cosiddetta antipolitica di cui si sente parlare molto identifica nei partiti gli strumenti di degenerazione o le fonti di degenerazione del paese cioè si dice beh ma in fin dei conti la corruzione parte proprio da quegli organismi che rappresentano la cellula fondante delle istituzioni di un determinato paese a cominciare dai partiti politici ma in realtà e qui cito una premessa non sono parole mie ma in realtà non si deve correre il rischio di coprire con l'onnicomprensiva espressione partito politico la più pregnante esigenza di individuare al suo interno i singoli responsabili delle azioni dello stesso partito cioè occorre distinguere coloro i quali all'interno del partito politico pongono in essere quei fenomeni degenerativi che di volta in volta periodicamente si registrano all'interno dei sistemi politici questa premessa è contenuta in un disegno di legge che appunto come dicevo prima non conoscevo in una proposta di legge più o meno trasversale presentata l'8 luglio del 2010 alla Camera dei Deputati atto numero 3615 ad iniziativa dei deputati Tabacci Pisicchio Mosella del Gruppo Misto e Calgaro dell'Udc con cui si proponeva di introdurre per i partiti politici il modello di prevenzione dei reati ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001 proposta di legge molto interessante anche nel suo sviluppo perché sostanzialmente configura anche delle sanzioni particolarmente dure di carattere pecuniario nei confronti del partito politico allorquando coloro che sono ad esso aderenti si macchino di reati nell'interesse o avvantaggio del partito stesso sanzioni fissate in una misura compresa tra un minimo del 10% e un massimo del 50% del finanziamento pubblico su base annua ove il partito non sia destinatario di finanziamenti pubblici si parla anche della possibilità di toglierlo è appunto una delle battaglie del Movimento 5 Stelle in questo caso la sanzione è commisurata con le medesime percentuali al valore delle quote di iscrizione e dei finanziamenti privati e si può arrivare fino a sanzioni interdittive che inibiscono al partito di presentarsi ad elezioni amministrative o politiche per un periodo di tempo da 12 a 24 mesi rubi non fai più politica forse la sanzione pecuniaria non è una sanzione adeguata se poi rimane in un alveo più o meno di riservatezza magari questa proposta di legge si potrebbe riprendere con delle sanzioni alternative del tipo un partito deve essere condannato a sanzioni che inquarrino un disvalore sociale ad esempio pubblicare la sentenza di condanna sui principali quotidiani per tre settimane affiggere manifesti in numero pari a quelli affissi per le elezioni politiche che diano conto della sentenza di condanna perché il cittadino il cittadino grazie il cittadino deve sapere il cittadino deve sapere quel partito come ha agito come ha disposto dei fondi pubblici c'è una proposta di legge non è stata oltre che presentata è stata presentata ma non è mai stata oggetto di discussione né in commissione né in aula potrebbe essere un'occasione per introdurre anche questo tema perché i partiti politici lo dicevo prima sono le cellule essenziali di tutte le istituzioni democratiche è da loro che parte ogni tipo di decisione a livello politico e determinano il funzionamento della pubblica amministrazione che è un po' il riflesso del potere legislativo ed è come dire figlia del potere esecutivo e quindi più controllo a cominciare dai partiti politici e magari un invito agli enti pubblici territoriali a dotarsi di modelli di governance che vadano oltre alla legge anticorruzione perché la 190 del 2012 fissa un aspetto importantissimo fondamentale ma ci sono altri tipi di reati che possono essere compiuti e che possono essere prevenuti ricorrendo a questi strumenti grazie per l'attenzione e per la pazienza applausi allora andiamo verso le conclusioni di questa tavola rotonda ringrazio innanzitutto i consiglieri per il livello tecnico di approfondimento che è stato sicuramente utile e fornisce a tutti tutta la platea a spunti di riflessione io porterò un contributo sicuramente non allo stesso livello perché sono un cittadino prestato alla politica temporaneamente quindi vi farò una relazione con un po' un occhio di un cittadino normale e ho passato diverse ore per analizzare la legge 190 2012 cercando di trovare le criticità e soprattutto i punti di forza e ammetto che quello che è già emerso da questa discussione che è una legge molto forte potente ma che viene depotenziata e soprattutto non applicata questa è già la conclusione vi posso dire che la cosa interessante per la platea credo che sia mettere in relazione questa legge questa critica con l'attività che stiamo facendo in consiglio regionale vi fa capire un po' come questa legge viene applicata in concreto vi porto qualche esempio reale che sicuramente sarà interessante da ascoltare allora signori consiglieri e cittadini esistono effettivamente una serie di criticità che emergono da una valutazione attenta della legge 190 2012 a sei mesi dalla sua entrata in vigore quindi una legge molto recente ma soprattutto nelle pratiche persistenti di corruzione e illegalità che influiscono quotidianamente sull'operato della macchina amministrativa a vari livelli l'attività di monitoraggio dei settori ad alto rischio di corruzione è urgente e non deve essere più rimandata poiché appare evidente che le situazioni di conflitto di interesse e mancato controllo nei processi decisionali sfociano sfociano fin troppo spesso in abusi di potere incompatibilità e addirittura incostituzionalità di atti e ruoli e questo l'abbiamo già visto in regione lo spirito della legge 190 prevede innanzitutto un coordinamento importantissimo che forse non abbiamo sottolineato dell'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto alla corruzione e a legalità addirittura a livello internazionale quindi un'azione che si svolge non solo nel contesto del singolo ente ma a livello anche nazionale internazionale questo è un elemento importante per il quale dobbiamo tenere conto in fase attuativa di cui ho scoperto appunto il decreto attuativo che non ho analizzato il 39 2013 per dare forza alla lotta contro il cancro della corruzione nella pubblica amministrazione infatti l'Italia lo citavamo anche prima è il paese più corrotto del continente dopo la Grecia secondo Transparency International infatti se nel resto del mondo i reati di corruzione sono in calo il nostro paese non vede una diminuzione tanto rilevante anzi è effettivamente in crescita e la figura di controllo la figura centrale di questa legge è il responsabile della prevenzione che ha infatti molto importante forme di responsabilità personale che può sfociare nel licenziamento nei casi più gravi con un ruolo molto forte sulla persona stessa e questa figura di controllo appare strategica e centrale nell'accertare la commissione di un reato contro la pubblica amministrazione al quale accertamento deve seguire effettivamente l'avvio della procedura sanzionatoria o penale quindi deve esserci il processo conclusivo e vi porto quindi l'esperienza vissuta sul campo da parte del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle attivo in Regione Lazio da circa un mese e mezzo quindi anche qua molto molto giovane ci troviamo di fronte a situazioni che appaiono assolutamente inconcepibili agli occhi dei normali cittadini osservate con gli occhi appunto dell'interesse collettivo e dell'efficienza che un cittadino si attende dall'istituzione della propria regione dagli enti regionali passando dalle strutture sanitarie di tutta l'ambientale si scopre giorno dopo giorno una pericolosissima commistione di interessi politici di natura partitica questo è radicati in decenni che sopravvivono a giunte di diverso colore quindi arriva il centro sinistra o al centro destra diciamo le pratiche rimangono le stesse chiamiamole prassi corruttive o prassi diciamo di natura criminale queste sono le parole infatti direttori dirigenti funzionari nominati in alcuni casi senza concorso come abbiamo scoperto in regione ma per amicizia politica senza avere meriti o competenze adeguate al ruolo manageriale che dovrebbero ricoprire e qui le responsabilità sono espettivamente come dicevo sia del centro sinistra che del centro destra conduce tutto questo meccanismo di nomine a un'efficienza della macchina amministrativa a sprechi e subalternità alle scelte politiche e soprattutto corruzione corruzione dovuta agli interessi di natura prettamente politica ma addirittura interessi di arricchimento privatistico e conservazione di potere al di sopra dei referenti politici stessi che persistono in forme in troppe figure di funzionari dirigenti presenti solo per gestire il proprio spoil system quindi il loro diciamo il loro apparato interno e il proprio sistema radicato di potere piuttosto che amministrare la cosa pubblica la regione Lazio purtroppo in regione Lazio questo comportamento post fiorito lo chiamiamo è fin troppo evidente e persistono fortissime lobby di potere interno alla struttura amministrativa con le quali abbiamo già avuto modo di scontrarci che nulla hanno a che fare con gli interessi dei cittadini con ipotesi addirittura di infiltrazione di natura mafiosa che stiamo analizzando abbiamo presentato in commissione affari istituzionali e deve essere ancora discusso in consiglio una proposta di legge regionale sulle condizioni di incompatibilità che nonostante vi sia una specifica riserva di legge prevista dalla costituzione a proposito ancora non risulta essere adottata incredibilmente e siamo i primi a presentarla quindi una proposta di legge per la incompatibilità mentre norme regionali sulle condizioni di incantinabilità non sono adeguate devono essere riviste anche alla luce dei principi introdotti di recente negli articoli 789 della legge 235 2012 quindi ci troviamo di fronte a casi di incompatibilità o di incantinabilità che sono prettamente non applicati o neanche concepiti dalla norma attuale e con questa proposta di legge la numero 20 2013 che è la nostra prima proposta di legge in consiglio regionale cercheremo di colmare una pericolosissima e sicuramente voluta carenza normativa legislativa quindi apro una breve parentesi per descrivere rapidamente i vantaggi della proposta di modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 2005 perché viene esattamente in contro a quanto stiamo discutendo in merito alla 190 2012 che è la legge anticorruzione e l'impianto principale prevede innanzitutto un potenziamento delle clausole di inelegibilità per fronteggiare ogni tipo di cumulo di cariche istituzionali vi cito solo il caso che alcuni assessori appena eletti da Giunta Zingaretti avevano accumulato cariche per penso due o tre assessori così come alcuni consiglieri e queste abbiamo subito portate all'attenzione dell'opinione pubblica l'impianto prevede anche la sospensione dalla carica anche in caso di condanni in via provvisoria per qualsiasi reato nei confronti della PA abbiamo un consiglio regionale che è stato indagato e è ancora lì a fare le riunioni di capigruppo e parteceva come se non la fosse perché non c'è una sospensiva dal tribunale quindi tutti gli effetti ancora in carica e moralmente inaccettabile ma per la legge è ancora ancora attivo e l'ultimo aspetto principale di questa proposta di legge sono le condizioni di incompatibilità in quanto abbiamo riproposto una riformulazione della norma che permetterà al magistrato esercitare un potere di valutazione più ampio al fine di identificare tutti i conflitti di interesse non solo una parte anche se velati dietro pestanome società fiduciari o scudi giuridici quindi ampliamo proprio il campo giuridico per valutare l'incompatibilità e la proposta di legge che il Movimento 5 Stelle porterà in discussione alla Regione Lazio vuole essere un esempio di politica trasparente al servizio dei cittadini e quindi dei suoi interessi collettivi e allo stesso tempo un modo per alzare ulteriormente la barriera di protezione da infiltrazione di natura affaristica e mafiosa radicando pratiche e prassi da troppo tempo accettate quindi questo è un po' quello che stiamo facendo in Regione in quest'ottica di anticorruzione torniamo quindi alla risoluzione iniziale andando direttamente sul punto più critico della legge e la domanda è questa che nasce proprio da un'analisi come posso dire non approfondita della legge perché non è stato approvato il piano triennale perché non tutti i responsabili della prevenzione sono stati nominati dalle amministrazioni centrali io sono andato sul sito di Civit che è disponibile e ho scoperto che su 13 ministeri solo 5 hanno stabilito entro i termini previsti dal 31 marzo questi responsabili della prevenzione che è un ruolo appunto centrale fondamentale quindi solo 5 su 13 pochissimi enti parco di cui sappiamo che c'è molto da approfondire ed enti di ricerca hanno risposto alla data 3 maggio 2013 stando proprio a questa lista che ho analizzato stanotte pochissimi enti locali forse tre quarti fra comuni e province al 29 marzo 2013 università circa alla metà al 3 aprile 2013 le camere di commercio qui invece sono stati quasi tutti virtuosi quindi perché pochissimi hanno nominato questo ruolo che è fondamentale contro la corruzione e cosa sono dovuti i ritardi questa è la seconda domanda la risposta l'abbiamo già che viene da da parte di Rizzo di Civit credo sia un dirigente un funzionario lui spiega che in parte possono essere la presidente scusate non ho avuto tempo e in parte quindi lei dice che possono essere causati dai complessi meccanismi di attuazione della legge non agevolati dalle circostanze politiche contingenti comunque stiamo registrando dicono un flusso di nomine che pervengono alla Civit con il ritmo di 50-100 al giorno però comunque siamo a metà di tutte quelle che ci aspettiamo in particolare afferma la Civit fino al 31 marzo dalle amministrazioni pubbliche sono stati nominati 1.400 responsabili della prevenzione alla corruzione la maggior parte nei comuni 1.200 4 ministeri e 42 le province di questi sono i dati ufficiali da parte Civit enti previdenziali di ricerca e gli enti nazionali sono 26 35 università e 55 camere di commercio quindi per ora Civit conta solo 30 unità di personale e sta fungendo soprattutto un'attività consultiva quindi sono sottodimensionati loro stessi lo ammettono quindi Civit ad oggi ha raccolto 72 piani anticorruzione ma il numero così basso è dovuto al fatto che c'era un obbligo a presentarli appunto entro il 31 marzo come dicevamo prima quindi deve essere fatto molto molto di più e tutto passa da un innalzamento che deve avvenire non solo del senso morale degli amministratori che non rispondono a questi piani fondamentali questi tempi richiesti dal governo ma l'innalzamento deve essere deve prevenire da un sostegno uno stimolo da parte dei cittadini verso una buona amministrazione pubblica efficiente ed efficace spesso i cittadini magari non sanno l'esistenza di questa legge questa 190 magari ne sanno la sappiamo veramente in pochi e quindi non sollecitiamo i nostri enti da un livello basso a un livello più alto a effettuare queste procedure che sono necessarie e non sono rispettate quindi in realtà sono i cittadini lo stimolo ma anche il traino dell'avanzamento legislativo in ottica di trasparenza e moralità questa è spesso la parte che ci dimentichiamo nel processo legislativo scusate e in quest'ottica stiamo lavorando da quasi un anno come momento 5 stelle Lazio per introdurre il Parlamento regionale elettronico cito anche questo importantissimo progetto che permetterà ad ogni cittadino di essere protagonista attivo del processo legislativo dall'inizio per quanto riguarda addirittura la scrittura dei progetti di legge che presenteremo in regione o anche in Parlamento fino alla fine con modifica leggi esistenti quindi entriamo come cittadino proprio nel processo interno della costituzione della pratica legislativa e per concludere torniamo al piano trenale di prevenzione che rappresenta il cuore della legge 190-2012 un dubbio grosso che emerge a punti di riflessione in questa tavola rotonda è che il piano trenale della prevenzione venga concepito come un mero addempimento burocratico svilendo il ruolo centrale dello spirito con il quale il legislatore ha inteso questo importante strumento di controllo e prevenzione quindi sminuiamo proprio la natura centrale così come la gravi responsabilità centralizzata nel solo ruolo di responsabile della prevenzione è necessario quindi continuare nella discussione fra istituzioni ed enti per analizzare ogni aspetto critico della legge eventualmente facendo delle modifiche per rafforzarla e le istituzioni in particolare dirigenti amministrativi dovranno vedere la figura del responsabile della prevenzione come stimolo ad un miglioramento dell'efficienza della trasparenza non invece di responsabilizzarsi vedendo come una figura che va in contrasto alla dirigenza stessa e alla governance dell'ente e questa è una grande sfida culturale innanzitutto che solo persone con alta moralità e senso dello Stato saranno in grado di raccogliere da qui passa l'evidente necessità di un'adeguata copertura finanziaria cosa che attualmente abbiamo detto che manca o comunque è insufficiente in modo da fornire la struttura di controllo e le risorse necessarie per il proprio funzionamento e le spese di formazione anche degli operatori stessi che avranno questo ruolo importantissimo invece la circolare della funzione pubblica 1-2013 prevede solo un incarico aggiuntivo sminuendone quindi la reale portata ed efficacia quindi un incarico in più che da un dirigente per come appunto dicevamo prima nel tempo libero quindi diamo un ruolo molto basso concludendo quindi abbiamo un'arma in più molto potente grazie a questa legge per la prevenzione e la ripressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ma non basta dobbiamo renderla attiva ed efficace in modo da superare un punto di non ritorno e non essere più sommersi come lo siamo stati nel recente passato da scandali di ogni tipo di funzionari pubblici corrotti quindi questo potrebbe essere proprio uno spartiacque fra la corruzione del passato e il nostro futuro di alta moralità politica e concludo dicendo che il Movimento 5 Stelle ha nel DNA questa battaglia per sradicare la corruzione e andrà avanti sino in fondo in Regione Lazio così come in Parlamento senza ripensamenti grazie grazie allora abbiamo ancora un quarto d'ora non so se c'è qualche domanda se possiamo prevedere giusto qualche osservazione qualche chiarimento prego volevo fare un'osservazione relativamente alla legge 190 leggendo la convenzione di Strasburgo in un paese come l'Italia con una corruzione così elevata ho notato che in realtà la legge rispetto alla convenzione che secondo me andava invece recepita in toto è stata recepita soltanto in parte il cosiddetto brodino appena tiepido perché tra l'altro questa è la nostra legge introduce la concussione per costrizione invece di essere una legge che aiuta a circoscrivere i reati l'infedeltà alla pubblica amministrazione in realtà complica la vita del magistrato la vita di tutti coloro che dovrebbero sanzionare questo tipo di reato oltretutto accorcia anche i termini di prescrizione quindi di